L'ultimo video promozionale della Regione Molise non trova la piena condivisione di numerosi consiglieri ed amministratori dei comuni della provincia di Isernia. Siamo tornati sulla vicenda. L'ultimo lavoro che promuove il Molise, il video proposto dalla Regione, ha incazzato il plauso di molti, ma anche tante critiche, a partire da quelle, alcune feroci, di numerosi consiglieri dei comuni della provincia di Isernia. Questi ultimi, come il consigliere di Venafro Stefano Buono, che abbiamo intervistato, sottolineano il cattivo trattamento ricevuto da alcuni luoghi assai significativi della storia, della cultura o soltanto dell'ottima qualità di vita, puniti con la totale cancellazione sia nelle immagini che nel testo, un fatto che sentono inqualificabile e che chiama in causa anche l'attuale presidente della provincia, Alfredo Ricci. Questo non è solo ed esclusivamente una questione campanilistica, è una questione di razionalità e di logica nella programmazione. Il Molise ha due sole province, Isernia e Campobasso. Escluderne una, anche al netto del contesto e del fatto che questa fetta di territorio, dal Castello Pandone alla straordinario centro storico di Venafro, a Pietrabbondante, al Paleolitico di Isernia, contiene delle eccellenze e delle particolarità importanti dal punto di vista storico, architettonico, archeologico e paesaggistico. Anche al di là di questo è un'operazione che non ha nessuna logica nell'ottica della promozione dell'intero territorio molisano. Mi pare una grave negligenza e una grave manifestazione di incapacità di programmazione, un grave atto anche di dispersione di soldi nella pianificazione e nella comunicazione del marketing territoriale. Mi pare che su questo, così come su tanti altri temi che riguardano gli interessi legittimi di una comunità e la difesa degli interessi dei cittadini, il sindaco di Venafro e il presidente della provincia, Alfredo Ricci, sia particolarmente assente. Sulle politiche del governo regionale, del governatore Toma, che ritiene amico, politico e con il quale condivide tutto, è evidente che non dice una parola e chi rappresenta Venafro e la provincia di Isernia ai massimi livelli dovrebbe invece battagliare per portare acqua al proprio mulino.